E' deceduta l'anziana colpita da un proiettile mentre si trovava in auto con un'amica alla periferia di Roma. La polizia ha rivenuto 5 bossoli a terra, ipotizzando che siano stati sparati dalla stessa pistola. Si sta cercando chi fosse a bordo dell'auto rossa da cui sono partiti i colpi. La pista più accreditata è che l'81enne sia stata colpita per errore. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova. L'anziana, originaria di Reggio Calabria, inizialmente ferita, è stata trasportata in ospedale già in gravi condizioni. La vittima si trovava sul sedile passeggero quando un'altra auto in corsa ha sparato. Il proiettile ha attraversato il bagagliaio della Smart e il sedile, ferendola alla schiena. L'amica di 63 anni, che guidava la macchina, è rimasta illesa ma sotto shock. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118, la polizia e la polizia locale. Sono subite iniziate le indagini per chiarire l'accaduto. Dalle prime ricostruzioni degli investigatori, sembra che due auto si stessero inseguendo quando da uno dei veicoli è stato esploso il colpo che ha raggiunto l'anziana. Tuttavia, sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e non si escludono altre ipotesi. Sono state raccolte diverse testimonianze sul posto. Verranno esaminate anche le immagini di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso l'auto da cui è stato sparato. Si cerca un'auto rossa con due uomini a bordo che, dopo aver sparato, si è allontanata in direzione Ponte di Nona. Il responsabile avrebbe sparato una sola volta. La polizia ha trovato un foro di proiettile nel portabagagli della Smart in cui viaggiava la donna e alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un unico sparo. Sul caso è intervenuto il sindacato unitario lavoratori della polizia locale, spiegando che un equipaggio del sesto gruppo Torri, che era di passaggio, è immediatamente intervenuto. Episodi come questo dimostrano l'importanza di standard uniformi, quanto a preparazione e strumenti per tutti coloro che operano nel settore della sicurezza. Ha sottolineato il segretario romano del sindacato Marco Milani. Grazie. 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 Grazie.